Robopets Cosmos e Galaxia sono due piccoli inventori. Hanno appena dato vita alla loro migliore invenzione. Grazie ad un cristallo misterioso, hanno dato vita ai Robopets. I Robopets hanno il potere di leggere nella mente di chi hanno di fronte e grazie a un collare magico comunicano con i loro padroncini e tra di loro. La rabbia di Robocat è sconfitta dal sorriso di Robodog. Sono tornati amici. Ma il perfido Chaos, invidioso dell'invenzione di Cosmos e Galaxia, è riuscito a rubare loro un frammento di cristallo. Anche lui ha costruito i suoi Robopets, ma i suoi sono diversi. L'odio batte l'amore. Chaos vuole sfidare Cosmos e Galaxia a una prova di potenza e conquistare anche i loro Robopets. Ha scoperto che tutti e otto i Robopets messi assieme gli possono conferire il potere di leggere nella mente degli altri e vuole usarli per i suoi perfidi piani. È arrivato il momento della sfida, ma il vincitore non sarà certo fino a quando gli ultimi Robopets non avranno svelato il loro simbolo. Sfida anche tu i tuoi amici con i Robopets! Gira il collarino, fa comparire i simboli magici e scopri chi ha vinto! Grazie a tutti!